8 9 2024 buongiorno con energie giornaliera buongiorno mondo di cosa potrebbe parlare a questa giornata questa domenica in realtà abbiamo energie abbastanza di contrasto dipende tutto ciò che avete fatto prima perché perché abbiamo il giorno 8 sappiamo benissimo che cos'è energia numero 8 la giustizia karma accelerato ciò che se i miei ricevi importante per la giustizia imparare di essere giusti con se stessi con le proprie scelte attraverso questo essere giusti anche con gli altri infatti la giornata di oggi della verità tra virgolette qualcuno di voi potrebbe ricevere ottima notizia aumento anche di qualche stipendio qualcosa lavorativamente parlando potrebbe il vostro lavoro potrebbe avere più valore nuove possibilità potrebbe essere anche l'incontrario dipende se è il peccato nel passato sei stato giusto con te stesso oppure se sei stato giusto anche con gli altri attenti oggi bisogna essere attenti con le proprie promesse se prometti un qualcosa soprattutto oggi devi mantenere questa promessa altrimenti pagherai per le tue parole le parole di oggi sono fondamentali ciò che vuol dire che puoi attirare ciò che dici oggi la giornata del karma quindi attento di fare il bene o male agli altri perché se per esempio vuoi entrare nell'ascensore cagare dentro l'ascensore l'ascensore a certo punto si chiuderà e resti lì da solo con la tua cacca per dire quindi attento oggi a ciò che fai in negativo abbiamo energia numero 7 anche coda karmica che si chiama guerriero ciò che vuol dire non combattere con le situazioni cerca di evitare le persone non normali esauriti cerca di non creare conflitti perché rapporti di oggi possono terminare fino in fondo e non ci sarà più ritorno rapporti lavorativi in famiglia cerca di bilanciare infatti in positivo abbiamo energia 14 oggi cerca di essere bilanciato in tutto perché abbiamo in positivo energia numero 14 la bilancia cerca compromessi con te con il mondo prima di fare un qualcosa pensa prima di dire un qualcosa pensa se vedi che le persone in qualche maniera ti fanno incazzare cerca di o andartene allontanarsi da queste persone altrimenti potrebbe finire un rapporto però la giornata di oggi potrebbe anche prevedere situazioni che erano di conflitto e proprio stesso oggi potete fare pace quindi la giornata di oggi sia potrebbe essere positiva che il negativo dipende da voi nel vostro umore da ciò che volete creare dal vostro essere giusti con voi cercare di essere giusti anche con gli altri qualsiasi cosa comprata oggi come un talismano vi porterà fortuna stessa oggi oggi ottimo riordinare la vostra mente la vostra casa la vostra vita ristrutturare tutto mentalmente fisicamente